Questo annuncio verrà fatto, se ci sarà naturalmente questa candidatura, verrà fatto domenica dal Presidente Meloni stessa e indicherà la importanza che assegniamo, che noi diamo a queste elezioni e che hanno oggettivamente queste elezioni e l'importanza di mettere insieme il livello europeo con il livello italiano. Il governo italiano ha fatto un ottimo lavoro, ma il livello europeo è estremamente importante, tante decisioni vengono prese dalla Commissione, dal Parlamento, dalle istituzioni europee ed è importante che in Europa l'azione di governo italiano la si fa anche a Bruxelles e dunque la partecipazione di Giorgia Meloni significherà questo.